Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo dell'increscioso episodio che ha visto come protagonista uno dei partecipanti più noti dell'Isola dei Famosi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Durante l'edizione 2024 dell'Isola dei Famosi, ora condotta da Vladimir Luxuria, Edoardo Franco ha fatto già parlare di sé. Notato fin dal primo giorno, il giovane vincitore di MasterChef si è lasciato sfuggire una parolaccia con il microfono aperto. Tutto ciò è avvenuto verso il finale di puntata, proprio in occasione delle prime nomination. Lo chef, probabilmente non pensando di essere in diretta, ha esclamato, io non so chi cazzo, votare. Questa uscita ha scatenato molte reazioni sui social, con parecchi commenti che spaziavano dall'ironia alla simpatia verso di lui. Ma prima di quest'episodio e della diretta stessa, Luxuria aveva espresso il desiderio di utilizzare il reality per condividere la storia dei naufraghi con gli spettatori a casa. Proprio per questo, la conduttrice si è detta molto contenta del cast, sottolineando la diversità tra di loro. Ha anche aggiunto che sarebbe stata severa con chi, in caso, dovesse deluderla, mostrando un forte legame emotivo con tutti loro. Quest'episodio ha già messo in luce la simpatia che il pubblico sembra avere per Franco, anticipando la sua iconicità. Ora si attende di vedere se l'incidente verrà menzionato nella prossima puntata e se, in caso, ci saranno dei provvedimenti. E tu cosa ne pensi di ciò che è successo a Edoardo Franco? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie. Grazie.